Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti da Jumping Mode ed oggi siamo qui in un nuovissimo video Oggi un video un po' particolare perché andremo a parlare infatti di come procederà il canale Per i prossimi mesi e che cosa ho fatto tutti questi mesi che non ho pubblicato video So che adesso ho un seguito che è pari a zero praticamente Magari solo i miei compagni di scuola o qualche mio amico sta guardando questo video Quindi vorrei dire che inizio un nuovo capitolo di questo canale YouTube E cercherò di portare più contenuti e cercherò soprattutto di non fare come ho fatto prima Soprattutto la tipologia di video come li facevo prima nel senso perché ero ancora un po' più piccolo E adesso che sono iniziate già le superiori devo iniziare veramente cioè devo iniziare seriamente a fare qualcosa Anche se non ho idea di che tipo di video farò però va bene qualsiasi cosa Oltre a questo lascerò tutti i video che sono già presenti su questo canale perché fanno parte della mia infanzia E infatti questo canale era attivo anche due anni fa perché ora non è tanto attivo per colpa mia Sempre per colpa mia solo io che gestisco questo canale Tranne all'inizio quando facevo dei video con il mio migliore amico E oltre a questo niente Grazie per aver visto questo video Vi consiglio di non andare a vedere altri video presenti sul mio canale Oltre a questo perché sono parte della mia infanzia e non voglio eliminarli Però voglio ripartire da capo e magari cambierò anche il nome del canale YouTube Però non penso proprio Non penso proprio Una citazione per uno dei miei amici E nulla Grazie per aver visto questo video Allora iscrivetevi con la campanellina per rimanere aggiornati Se pubblicherò qualcosa di nuovo Soprattutto riguardante la Serie A, la Juventus e il calcio in generale Ma anche soprattutto tipo Brawl Stars perché è un gioco in cui sono abbastanza forte E quindi niente come ho fatto vedere pure nel mio primo video due anni fa dove ci giocavo E niente Grazie veramente di aver visto questo video Anche se era un po' giusto per chiarire alcune cose Ma noi ci vediamo al prossimo video Se e quando lo pubblicherò Grazie di aver visto questo video Ciao Allora ultima cosa Che non ho detto che cosa volevo dire Ah boh Ah pure il fantacalcio porterò dall'anno prossimo Perché si inizia anche lì seriamente Quest'anno solo tipo Ho due fantacalci diversi Però non sono seri Perché sono ancora piccolo ancora E nel secondo fantacalcio sono tipo penultimo Invece nel primo Che ho organizzato sempre io Insieme a No Organizzato sempre io Insieme al mio migliore amico E quindi Lì sono messo più o meno Tipo quarta posizione sempre su otto Quindi sempre a metà Però dipende sempre dai risultati che faccio Perché posso salire di classico Come posso scendere subito E comunque Vi ringrazio ancora di aver visto questo video E se volete Un'altra volta Iscrivetevi al canale Ciao 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 Ciao